Buongiorno a tutti, continuiamo queste lezioni che riguardano l'architettura del web parlando di application server ricordate che abbiamo visto questa piramide inizialmente nella quale avevamo nel lato del server diversi componenti tra cui l'application server che è quello dietro il web server che gestisce il protocollo HTTP è in grado di implementare la logica che deve fornire il nostro server per far funzionare l'applicazione web quindi fatta questa premessa possiamo addentrarci a parlare di application server che è tra appunto il browser e i dati che risiedono sull'ultimo strato che abbiamo visto prima che è il database e di fatto è quello che ci consente di far funzionare la logica applicativa e molto spesso anche l'incarico di mantenere le informazioni di sessione di cui parleremo più avanti tra una richiesta successiva e l'altra che vengono effettuate tramite il protocollo HTTP e che come sapete sono una indipendente dall'altra ci sono come è naturale aspettarsi differenti tecnologie e architetture disponibili e quindi parleremo più in dettaglio tra un attimo di che cosa è a disposizione prima di tutto però rifacciamoci allo schema che abbiamo già visto in precedenza per quanto riguarda una transazione web quindi un ciclo di richieste risposta dove abbiamo sulla sinistra il client che fa la richiesta HTTP quindi in questo caso però non invia più cioè invia una cosa simile a quello che veniva inviato in precedenza cioè il percorso richiesto ma che in realtà viene poi interpretato dal server web in questo caso come di fatto un comando con eventualmente dei parametri per cui un comando che potrebbe essere dammi tutta la posta che risiede a cui hai accesso però un parametro potrebbe dire per esempio solamente gli ultimi 20 messaggi piuttosto che gli ultimi 50 messaggi e così via c'è della logica che funziona sul lato del server quindi un programma scritto in qualche linguaggio che esegue delle operazioni codificate dal programmatore e come risposta fornisce nuovamente esattamente come nel caso precedente un contenuto codificato in formato HTML che viene come nel caso precedente rispedito indietro tramite una risposta HTTP al browser che provvede a visualizzarlo quindi quanto è cambiato rispetto al caso precedente è il fatto che adesso questa richiesta non fa più riferimento a una risorsa fisica disponibile direttamente sul file system del server ma deve essere calcolata in maniera dinamica tramite un programma che eventualmente prende dei parametri come ingresso e produce dinamicamente un contenuto HTML anche in questo caso esistono tutta una serie di standard che sono adottati nelle architetture web per realizzare questo comportamento e per quanto riguarda il protocollo HTTP abbiamo la possibilità di usare due cosiddetti metodi o il GET che abbiamo già visto oppure il POST con la possibilità di specificare dei parametri in una cosiddetta query che consente quindi di inviare dei dati al server web così che questi possano essere passati all'application server e possano essere processati dal application server usando il linguaggio nel quale il programmatore ha previsto di lavorare sull'application server e quindi producendo come risposta come abbiamo detto prima un contenuto HTML i linguaggi che possono essere usati per lo sviluppo di applicazioni lato server sono molti dal ASP, PHP, Perl al JavaScript come abbiamo già anche detto piuttosto che quindi questi sono linguaggi diciamo pensati in buona parte per l'ambiente web piuttosto che possiamo usare anche linguaggi che sono più tradizionali quindi che so Java piuttosto che Python piuttosto che C Sharp eccetera che vengono adattati con apposite librerie per facilitare il lavoro allo sviluppo di di codice che può girare su un su un application server dicevamo dei cookie che sono il metodo più standard attualmente per immagazzinare informazioni di sessione cioè di fatto sono in un identificativo che consente di collegare una richiesta HTTP quindi una transazione HTTP quindi un ciclo di richiesta risposta che avviene ad un certo tempo con un ciclo di richiesta risposta che avviene in un momento successivo questo identificatore comune alle varie richieste viene processato dall'application server e riconosciuto come comune a richieste precedenti e quindi ci consente di fatto di andare a collegare tra loro le richieste e quindi se nella richiesta precedente avevo ottenuto come risultato quello di avere un'autenticazione sul server quindi farmi riconoscere dal server per esempio tramite un username o una password inviando sempre questo identificativo che mi è stato creato dal server sono in grado di non dover più ripetere questa operazione ad ogni transazione http quindi ogni giro di richiesta risposta che vado a effettuare sul application server il quale grazie a questo identificativo mi riconosce come un certo utente a cui può far vedere secondo la logica applicativa certe informazioni per esempio solo la mia email e non quella di qualcun altro il saldo del mio conto in banca non quello di qualcun altro e così via quindi una transazione web quando abbiamo a che fare con pagine dinamiche si comporta come vedete sulla slide c'è sempre un'interazione dell'utente che fa partire il tutto tramite il browser che processa la richiesta del diciamo l'evento creato dall'utente e produce una richiesta http che si trasferirà sulla rete al server web il quale elabora questa richiesta riconosce che non è una risorsa fissa sul file system locale come invece succedeva in precedenza ma deve andare ad invocare il programma di un application server eventualmente con un certo numero di parametri ricevuti dalla richiesta stessa l'application server fa girare il suo codice quindi per tutto questo periodo che è il tempo speso dall'applicazione che gira nell'application server il quale produrrà un risultato in formato html che viene processato dal server web per essere reso compatibile con la risposta http dopodiché viene spedito indietro al browser web il quale lo elabora per renderlo visibile nella forma corretta all'utente che così ottiene la sua risposta quindi il total server time il tempo impiegato dal server web è quello da quando riceve la richiesta quando ha la risposta che deve includere anche il tempo impiegato dal processamento dei dati da parte dell'application server e il tempo totale di risposta chiaramente come nel caso precedente il tempo che intercorre tra l'interazione dell'utente quando l'utente vede il risultato caricato a schermo dal browser volendo quindi andare a vedere sempre su quell'architettura web generica molto semplificata all'inizio che via via stiamo andando a complicare che cosa è successo in questo momento abbiamo aggiunto un pezzo ulteriore che è l'application server e quindi nel momento in cui il server web riceve una richiesta che riconosce essere diretta ad un application server che deve far funzionare un programma abbiamo un ambiente di esecuzione all'interno dell'application server che farà girare un'applicazione scritta da chi sviluppa l'applicazione web lato server e che viene fatta girare nell'ambiente di esecuzione dell'application server e come prima produce un file html quindi dei dati html che vengono serviti indietro dal server web al browser il quale non è neanche a conoscenza del fatto che questo html viene generato da un'applicazione piuttosto che essere recuperato in maniera statica dal file system del server e semplicemente lo visualizza di nuovo all'utente con il suo meccanismo di produzione diciamo di generazione del layout visivo presentato all'utente stesso anche in queste slide adottiamo lo stesso codice la stessa convenzione di colori che abbiamo già adottato nelle slide precedenti cioè tutto quanto è in verde e standardizzato quindi browser il server web e in questo caso l'application server non esiste un solo tipo di application server come non esiste un unico software che realizza server web però esistono diciamo un numero limitato di questi software che comunque aderiscono ad un certo numero di standard inoltre molti di questi server web abbiamo già detto come alcuni browser come molti di application server sono software che sono sono open source quindi liberamente scaricabili utilizzabili e disponibili per la realizzazione delle proprie architetture web notiamo ancora un'ultima cosa che in questo punto non abbiamo più smesso un certo standard o linguaggio ci sono tre asterischi che vogliono dire fondamentalmente che l'atto applicazione come abbiamo detto prima si può si può programmare in diversi linguaggi quindi abbiamo visto ASP PHP piuttosto che JavaScript piuttosto che altri linguaggi in questo scenario per ora il meccanismo è ancora quello di produrre un contenuto HTML che viene ritornato al browser come se fosse un contenuto statico quali sono gli application server più diffusi al momento questa slide è relativamente recente fine 2019 il PHP la fa da padrona seguito dalla tecnologia diciamo più o meno equivalente Microsoft ASP seguita da altre tecnologie per esempio basate su Java utilizzato parecchio in ambito enterprise quindi grandi aziende e così via JavaScript è solo allo 0,8% diciamo che queste classifiche comunque nel tempo variano quindi diciamo noi abbiamo scelto di utilizzare JavaScript per vari motivi prima dei quali è focalizziamoci su un unico linguaggio e così non abbiamo la necessità di dover gestire più linguaggi all'interno dello stesso corso ma comunque diciamo provare anche JavaScript che è un linguaggio nato per in ambito web sul server può avere la sua utilità perché effettivamente ci farà vedere che ci sono diciamo tutta una serie di vantaggi che si possono ottenere anche programmando in JavaScript lato server piuttosto che in altri linguaggi diciamo più tradizionali e nati diciamo esclusivamente per l'ambiente server come appunto per esempio in questo caso il PHP andando a vedere un po' più in dettaglio tra gli ambienti per application server più diffusi vediamo che all'interno di Java che era il terzo in quella lista precedente ci sono tutta una serie di diciamo sottodivisioni cioè application server di fatto molti di questi open source tra l'altro che diciamo sono predominanti per esempio Tomcat è uno dei più diffusi in ambiente Java piuttosto che JBoss e così via ripeto che molti di questi application server sono open source quindi probabilmente hanno contribuito ampiamente alla diffusione dell'architettura web quindi dell'applicazione web per come le conosciamo oggigiorno perché chiunque ha potuto utilizzarli senza dover pagare diciamo royalties o diciamo licenze di utilizzo del software che forse ne avrebbero limitato la diffusione quindi se andiamo a vedere PHP più diciamo più Java eccetera sono sono appunto ambienti completamente open source liberamente utilizzabili vediamo ora l'ultimo elemento di quella piramide che abbiamo visto all'inizio di queste lezioni che è il database server il database server immagazzina i dati sui quali lavora l'application server ed esegue le queries quindi le richieste create ed inviate dall'application server secondo della logica di funzionamento dell'application server stesso quindi queste query sono tipicamente di tre tipi aggiornare dei dati memorizzati nel server web nel database server inserire nuovi dati forniti per esempio dall'utente tramite una richiesta http e fornire dei risultati quindi andare ad interrogare la base dati per conoscere quali sono i dati relativi ad una certa richiesta di interesse dell'utente diciamo ci sono diverse tecnologie per andare a implementare questi database server i database server più diffusi sono database server relazionali questo potrebbe essere un argomento a sé per quanto riguarda l'ampiezza appunto dell'argomento stesso in effetti avrete seguito un corso di database che vi ha insegnato molto di più sui database server vediamo come questo però si colloca nell'ambito di una transazione web dove si va a richiedere l'informazione ad un database server quindi riprendiamo lo stesso schema di prima e di nuovo partiamo dal client che ci manda la sua richiesta per una pagina web dinamica quindi per una path dell'url che non esiste e quindi vai ad invocare una logica applicativa sul application server che questa volta prima di produrre la risposta sempre in formato html va ad interagire con un database server e quindi va a effettuare delle query per ottenere dei dati che poi usa nelle sue elaborazioni abbiamo disegnato il database server in questo caso come un server anche fisicamente separato questo non è estrettamente necessario ma è diciamo tipico delle architetture web perché il database server ha spesso necessità differenti rispetto al server web il server web ha necessità di essere in grado di gestire molte richieste contemporaneamente quindi a requisiti di banda e così via particolari il database server invece tipicamente ha necessità di avere molto spazio disco e un po' di capacità di elaborazione per poter appunto rispondere immagazzinare molti dati e rispondere rapidamente alle richieste da parte del programma che gira nell'application server e che quindi deve diciamo tirar fuori i risultati da mandare indietro come risposta della richiesta fatta da parte del client anche in questo caso esistono diversi standard diciamo il più noto dei quali l'SQL Structured Query Language che è il linguaggio utilizzato per fare richieste scrivere query quindi fare tutte le operazioni relative ad un database server relazionale e quindi aggiornamento dati piuttosto che inserimento piuttosto che recupero di dati secondo una certa logica applicativa stanno cominciando ad emergere anche database basati su un altro principio i cosiddetti no SQL che diciamo usano una filosofia differente rispetto ai database relazionali che sono basati su tabelle schemi di tabelle quindi campi all'interno di queste tabelle colonne e così via organizzate da chi sviluppa l'applicazione e quindi lo sviluppatore dell'applicazione web che poi ha bisogno di una base dati organizzata in una certa maniera e questi invece sono più orientati a semplicemente immagazzinare diciamo singoli documenti quindi singoli dati che non sono strutturati in questa forma tabellare tipica delle base dati relazionali un database server appunto è tipicamente interrogato tramite query iscritti in linguaggio SQL le classiche select from e così via piuttosto che insert update delete eccetera eccetera e come dicevamo usa praticamente sempre tranne appunto approcci un po' più recenti un database di tipo relazionale non ci fermiamo più di tanto su questi diciamo aspetti che sono più collegati a come realizzare un database efficiente per le nostre applicazioni web noi useremo e ci focalizzeremo sul minimo indispensabile per realizzare qualcosa di funzionale per la nostra applicazione web ma come sapete il focus di questo corso è sulla parte client esempio questo è un esempio scritto in linguaggio php giusto perché è molto facile da comprendere ma potrebbe essere scritto in qualsiasi altro linguaggio il codice che gira sull'application server in questo caso scritto in php va a creare delle query che vengono poi prese ed eseguite inviate al database server e la loro risposta è elaborata in un qualche ciclo di elaborazione questo è un esempio di principio quindi mi raccomando questo non è un esempio da copiare così come esse per caso daste php perché bisogna sempre fare attenzione a come vengono costruite le query soprattutto quando i dati arrivano dall'esterno quindi arrivano tramite una richiesta http e così via vanno ripuliti resi inoffensivi per eventuali query maliziose e così via però questi di nuovo non sono aspetti sui quali intendiamo focalizzarci ci focalizziamo invece sul principio e il principio è quello di appunto avere un application server che va a generare delle query che danno che richiedono delle informazioni nel database server e poi elaborare le risposte corrispondenti andando a vedere il diagramma temporale che abbiamo già visto in precedenza a partire dalle transazioni web più semplici nel momento in cui è presente un database server la parte che si viene a modificare è questa qui sotto dove nell'application server abbiamo una o più interazioni con il database server quest'ultima è la linea del database server che deve possibilmente in breve tempo darci delle risposte riguardo alle query che gli vengono inviate è importante che il database server sia un server performante quindi con prestazioni elevate perché è molto probabile che all'interno dell'application server siano necessarie più query per andare ad eseguire un pezzo di logica applicativa che ci consente di rispondere ad una singola richiesta proveniente dal client quindi queste singole transazioni con il database server devono essere rapide così da consentirci di elaborare la richiesta proveniente dal client in un tempo ragionevole che eviti che l'interazione percepita da parte dell'utente sia eccessivamente lenta quindi questo qui come evidenziato è il tempo necessario all'elaborazione da parte del database tornando alla nostra architettura web che si sta complicando sempre sempre più e quindi ci mostra come effettivamente l'architettura web nel suo complesso nel suo scenario più generale sia piuttosto complicata vediamo un nuovo pezzo qui in basso a destra quindi abbiamo aggiunto il database server quindi un database management system che ovviamente consente di accedere a delle informazioni create gestite progettate da parte dello sviluppatore ma di nuovo questo blocco in verde è in verde proprio perché come gli altri è standardizzato esistono una serie di database server utili per lo sviluppo diciamo di applicazioni che si basano sull'uso di database che sono diciamo anche open source che hanno delle ottime prestazioni per esempio uno dei database server più diffusi MySQL con le sue varie varianti piuttosto che esistono database server proprietari come Oracle e così via il linguaggio che viene utilizzato per andare a interrogare questi database server è generalmente SQL standard o quasi standard nel senso che possono esserci piccole varianti a seconda del database server utilizzato a seconda del fatto che si vogliono utilizzare caratteristiche più o meno standardizzate del database server veniamo finalmente alla parte che interessa questo corso e quindi alla parte client side finora abbiamo infatti parlato molto del server ma non abbiamo parlato del lato client quindi abbiamo visto come realizzare una pagina web dinamica quindi siamo in grado di cambiare il contenuto della pagina sulla base delle richieste che ci vengono effettuate in maniera dinamica dal client e quindi siamo in grado di fatto di rendere un sito web di adattare il contenuto di un sito web ad ogni singolo utente mostrando ad ogni singolo utente le informazioni che gli interessano quindi per esempio un sito che ci mostra la posta elettronica dell'utente mostrerà messaggi diversi ad ogni singolo utente chiaramente possiamo andare a recuperare informazioni che provengono dall'utente andarle a immagazzinare e così via per esempio che ci vengono passate tramite dei form e così via quindi i form convertono l'informazione in un url che ci viene inviato nella richiesta http e che viene poi spacchettato sul lato del server per essere interpretato dalla logica dell'application server e che produce delle azioni per esempio immagazzina dei dati nel database e così via a questo punto quindi ci chiediamo che cosa possiamo fare sul lato del client quindi è possibile programmare sul lato del client ma ci richiede questo ci richiede un linguaggio di programmazione accettato quindi utilizzabile da tutti i browser e questo lo sappiamo è javascript che è uno degli argomenti principali di questo corso un programma embeddato quindi inserito all'interno di una pagina web quindi servito al client che è come un pezzo di una pagina web e un ambiente di esecuzione all'interno del browser quindi nel momento in cui andiamo a fare una richiesta verso un server web questo può ritornarci una risorsa html che abbiamo visto può fare riferimento ad altre risorse per esempio immagini per esempio altri tipi di contenuti e può anche fare riferimento a dei programmi eseguibili sul lato del client e quindi a del contenuto sotto forma di codice javascript che può girare l'ambiente di esecuzione javascript nel browser per evitare che questo sia il diciamo meccanismo perfetto per spandere virus informatici in giro per il mondo tramite interazioni web è chiaramente necessario che un programma che è stato scritto da un programmatore diciamo al di fuori del nostro computer e viene scaricato in questa maniera possa essere immediatamente eseguito e possa andare ad accedere a tutte le nostre informazioni private presenti sul calcolatore locale dove gira il browser e così via e quindi il programma che viene scaricato deve essere molto ben contenuto all'interno di un ambiente di esecuzione che non consenta di effettuare operazioni pericolose per esempio accesso a file locali piuttosto che altre interazioni col sistema locale che non siano ritenute sicure una limitazione di questo approccio però è anche che tutti i dati necessari al programma che gira sul client devono essere conosciuti in anticipo perché? perché devono essere caricati nel momento in cui si carica la pagina web quindi questo è un primo approccio per poter caricare un programma che gira sul lato del client scaricandolo da un server web però in questa prima fase siamo limitati dal fatto che una volta scaricato questo programma gira per conto suo e se aveva bisogno dei parametri questi devono essere conosciuti al momento dello scaricamento ritornando agli schemi che abbiamo già visto in precedenza ogni volta arricchendoli questa volta lavoriamo qui a sinistra nella parte del client e quindi tutto il resto funziona nella stessa maniera che abbiamo visto in precedenza quindi c'è richiesta per pagine web dinamiche che possono lavorare con della logica lato server eventualmente con un database server ci ritorna un html che eventualmente si riferisce a del codice che viene anch'esso caricato con altre richieste http apposite e che viene inserito qui all'interno del ambiente di esecuzione lato client del browser e qui vediamo due lampadine non uno per dire che queste risorse questi programmi che vengono caricati per essere eseguiti possono essere anche più di uno anzi tipicamente sono più di uno e questi programmi per essere efficaci quindi per produrre dei risultati che siano visibili all'utente devono avere una maniera per interagire con il browser e questa maniera di fatto è un'interfaccia che viene chiamata DOM document object model che consente di andare ad agire su quanto viene visualizzato all'interno della pagina visualizzata dal browser approfondiamo questo aspetto in un istante il DOM document object model è quindi uno modo standardizzato per diciamo rappresentare una struttura dati che consenta di mappare quanto è contenuto in una pagina web guardate questo esempio sulla destra quindi un documento web documento il nome che viene utilizzato in ambito web per riferirsi appunto a un contenuto di tipo html è costituito da un elemento radice che ha elementi diversi elementi di figli quindi una parte di header piuttosto che una parte di body che contiene quanto viene visualizzato poi all'interno della finestra del browser e quindi vari elementi i cosiddetti tag html che possono avere eventualmente attributi piuttosto che contenuto testuale che viene direttamente visualizzato all'interno della pagina del browser questo standard è supportato da tutti i browser questo è assolutamente importante perché così ci consente di scrivere del codice javascript che gira sul client che sia funzionante su qualsiasi tipo di browser e fornisce un'interfaccia che può essere utilizzata appunto da javascript per andare ad interagire con questo DOM in particolare leggere elementi proprietà e così via e soprattutto modificarlo ogni modifica che verrà fatta a questo albero al DOM verrà immediatamente visualizzata da parte del browser sullo schermo quindi avere a disposizione questa interfaccia ci consente di astrarre le peculiarità del singolo browser quindi tutti i browser offrono questa interfaccia standardizzata e anche del html quindi il DOM per l'html è standardizzato nei modi necessari per andare a prendere cambiare aggiungere eccetera elementi html quindi DOM è uno degli elementi standard che ci consentono di realizzare applicazioni lato client e secondo chiaramente il linguaggio javascript e il terzo css di cui diremo tra poco il cosiddetto cascading stylesheet che ci consente di gestire in maniera un po' diciamo più comoda attributi di visualizzazione e di layout che altrimenti diventerebbero complicati da gestire senza avere un set di regole precise su come far comportare questi elementi in fase di visualizzazione quindi aggiungiamo un ulteriore pezzo alla nostra architettura web quindi abbiamo il server web che a questo punto oltre a servire una risorsa statica che le risorse statiche che sono per esempio le immagini che vengono referenziate dalla pagina che viene caricata serve anche un web server serve anche dei programmi javascript quindi in blu quindi vuol dire che sono scritti dallo sviluppatore dell'applicazione web e che sono immagazzinati sul server ma serviti al client e andranno a funzionare all'interno di questo engine javascript quindi ambiente di esecuzione javascript che gira sul browser quindi sul lato del client quindi il programma risiede sul server ma viene trasferito sul client e sul client viene eseguito quindi l'ambiente javascript tramite quest'interfaccia che abbiamo detto DOM ci consente di andare ad agire sul layout engine e quindi di andare a visualizzare degli elementi piuttosto che aggiungere elementi rimuovere elementi e così via presenti nella pagina visualizzata dal browser ecco qualche parola sul CSS è utile parlare un attimo di CSS perché è un qualcosa che diciamo dobbiamo conoscere nell'ambiente dell'architettura web perché diciamo ci facilita di molto la gestione della presentazione il cosiddetto layout del contenuto dal contenuto stesso una cosa è recuperare l'informazione da visualizzare una cosa è decidere come andare a visualizzarla lo scopo di questa separazione è di consentire di disaccoppiare il meccanismo utilizzato per effettuare il layout del contenuto sullo schermo la presentazione del contenuto stesso questo ha una serie di vantaggi per esempio pensate al fatto che è vero che il browser può essere lo stesso ma lo schermo sul quale viene visualizzato il browser può essere differente può differire in termini di risoluzione più grande più piccola può essere un dispositivo di tipo diverso un dispositivo più rottatile quindi un dispositivo mobile uno smartphone piuttosto che un calcolatore fisso piuttosto che avere preferenze di visualizzazione differenti piuttosto che essere un media differente per esempio schermo piuttosto che una pagina stampata e così via e se riuscissimo a realizzare tutto questo comportamento adattativo in maniera standard ossia di fatto realizzare in maniera standard un comportamento che automaticamente ridimensioni ciò che viene visualizzato sulla base della risoluzione piuttosto che lo disponga in un flusso di testo differente piuttosto che mostri o nasconda del contenuto a seconda del tipo di dispositivo eccetera ci potrebbe essere estremamente utile perché esprimendo una semplice serie di regole per la visualizzazione poi deve essere il browser che si preoccupa di andare a realizzare il layout molto più appropriato per il dispositivo sul quale il contenuto viene visualizzato a seconda delle sue caratteristiche esiste una soluzione l'abbiamo vista e sono questi cosiddetti cascading style sheets CSS quindi sono dei fogli di stile incascata nel senso che ci sono delle regole che possono sovrascrivere regole di livello più elevato e alla fine di tutto questo lavoro il browser applicherà diciamo le regole così come vengono calcolate da questa cascata agli elementi HTML per poterli visualizzare nella forma desiderata il CSS è uno standard che prevede un formato molto semplice di fatto uno standard che prevede una serie di dichiarazioni la dichiarazione che vedete qui in basso che dice che cosa fare sostanzialmente viene applicata ad un selettore che seleziona quali elementi HTML devono essere diciamo affetti dalla dichiarazione stessa per esempio in questo caso diciamo che tutti gli elementi HTML di tipo H1 dovranno avere come colore blu e come dimensione del font 12 quindi gli H1 sono i titoli principali e che verranno colorati in blu piuttosto che avranno la dimensione del font pari a 12 esistono tutta una serie di properties e di proprietà che possono controllare praticamente qualsiasi aspetto di visualizzazione degli elementi HTML qui abbiamo visto cose semplici quindi colore dimensione font allineamento quindi ci sono anche proprietà utili per la disposizione non solo il modo in cui appaiono questi elementi bordi stato selezione transizione eccetera eccetera le versioni CSS più recenti effettivamente sono piuttosto potenti da questo punto di vista e quindi se ritorniamo al nostro solito schema dell'architettura web c'è ancora un ulteriore pezzo CSS scritto dal sviluppatore in uno più file spesso sono più file perché esiste un file generale più file particolari per certi specifici comportamenti che si discostano dal comportamento di default che vengono serviti così come le altre risorse fisse immagini piuttosto che programmi da eseguire sul client al client nel momento in cui andiamo a caricare una singola pagina html ok dal punto di vista dell'architettura del browser questo è uno schema concettuale abbiamo quindi che il browser è composto da una serie di elementi che di fatto ci consentono di realizzare tutte le funzionalità che abbiamo visto fino a questo momento in particolare il rendering engine è quello che ci consente di andare ad interpretare il contenuto html e di andare a visualizzarlo secondo quanto specificato dalle regole css che sono associate a questa risorsa html e inoltre deve poter interagire con la rete eventualmente per caricare nuove risorse come abbiamo visto scopriamo che è presente un'immagine all'interno della descrizione html e questa deve poter essere caricata è presente un nuovo un riferimento a un programma questo viene caricato e così via deve poter interagire con l'interprete javascript per poter comunicare quello che è presente all'interno dell'albero DOM e per consentire di modificare quest'albero DOM e deve poter interagire con la user interface prevista dal sistema operativo così come la user interface stessa del browser per consentirci di fatto di andare ad utilizzare un programma nativo che è composto da tutta una serie di elementi grafici la barra del titolo piuttosto che i bottoni che servono a chiudere e aprire l'applicazione piuttosto che vari tab ed elementi di scorrimento eccetera che sono tipici e dipendenti dal sistema operativo stesso quindi l'engine del browser deve essere in grado di tradurre le azioni che facciamo sull'interfaccia utente del programma nativo del browser in qualche cosa che viene diciamo interpretato dal rendering engine per esempio un click che andiamo a fare nella finestra nella quale è visualizzata la pagina deve essere passato dal diciamo dal sistema operativo tramite l'interfaccia utente nativa dell'applicazione del browser al rendering engine che si occuperà di processarlo secondo quanto previsto che so da eventuali eventi agganciati tramite javascript e così via il rendering engine quindi sostanzialmente lavora nella maniera che vedete sulla slide ha del contenuto html da parsificare quindi da interpretare per costruire questo modello di struttura dati nella memoria che è il modello DOM lo renderizza nel senso lo rende diciamo appunto un albero costruito al quale viene applicato un meccanismo di layout sulla base delle regole di layout predefinite o specificate nelle risorse CSS a questo punto una volta che è stato risolto il modo di visualizzare gli vari elementi di questo albero sulla finestra del browser questi effettivamente vengono disegnati con le primitive grafiche predisposte dall'interfaccia utente nativa quindi disegnando rettangoli testo e così via tutto quanto necessario a farlo apparire effettivamente a schermo e questa operazione viene ripetuta di continuo quindi per esempio prendiamo il webkit che è uno dei toolkit per fare il rendering più diffusi per esempio appunto in chrome questo è il meccanismo e il toolkit di default abbiamo delle risorse una risorsa html che viene diciamo interpretata dal parser e viene costruita nella memoria sotto forma dell'albero DOM abbiamo uno più risorse di fogli di stile CSS che anche questi vengono interpretati quindi le regole che vediamo prima vengono interpretate da un interprete e vengono applicate ai vari elementi del DOM quindi collegate insieme e viene risolto il modo di applicarle perché possono esserci regole in conflitto e quindi deve esserci una maniera per decidere quale singola regola effettivamente si applica ad ogni singolo elemento dell'albero DOM per questo tra l'altro si chiama cascading style sheet perché vengono applicate in cascata le regole e la regola più vicina all'elemento è quella che vince e una volta effettuata questa operazione avviene l'operazione di rendering per diciamo determinare qual è l'albero che rappresenta l'informazione così come visualizzata sulla base di quanto definito dalle regole di layout dopodiché con l'operazione diciamo di painting quindi di utilizzo delle primitive grafiche del sistema operativo sul quale gira il browser verranno visualizzate a schermo questo è un esempio di quello che per esempio succede in Chrome il processo del browser si occupa della parte diciamo di interfaccia del browser quindi dell'applicazione nativa vera e propria i bottoni per chiudere la finestra minimizzarla e così via piuttosto che la barra dell'URL piuttosto che i vari tab che ci consente di aprire più visualizzazioni contemporaneamente eccetera eccetera nella parte principale che è quella che mostra il contenuto della pagina web che abbiamo caricato gira questo processo di rendering di cui abbiamo detto un attimo fa in più può darsi che ci siano sotto zone di questa finestra che vengano gestite separatamente da dei plug-in per esempio se avete in mente Flash che adesso non è più tanto utilizzato i plug-in hanno una loro zona nella quale possono gestire in maniera indipendente dal resto del sistema la visualizzazione questo meccanismo però viene sempre più abbandonato in favore di avere una gestione unificata della visualizzazione quindi nel momento in cui andiamo ad effettuare il parsing dell'html per prima cosa viene creato un albero DOM quindi il browsing interpreta l'html l'html viene interpretato quando si trovano dei riferimenti a delle altre risorse che sono link per caricare un CSS piuttosto che IMG per caricare un'immagine piuttosto che script per caricare un altro programma partono delle richieste verso la rete che richiedono con una transazione http di andare a caricare la risorsa relativa nel frattempo l'albero viene costruito sulla base dell'interpretazione del contenuto dell'html stessa cosa avviene per il CSS una volta ricavata l'informazione del CSS quindi il contenuto della risorsa CSS qui vediamo un esempio regola che si applica tutto regola che si applica solo agli elementi P e così via per ognuno degli elementi calcolati in precedenza viene calcolato lo stile corrispondente cioè lo stile che deve avere questo elemento una volta che verrà visualizzato sulla pagina una volta che questo stile è stato calcolato per tutti gli elementi viene calcolato un layout tree che effettivamente ci dice come andare a collocare i vari elementi sulla pagina quindi nella parte di visualizzazione della pagina web e una volta che abbiamo questa informazione vengono invocate le primitive di basso livello del sistema operativo sul quale gira il browser direttamente dal browser stesso per poter andare ad effettuare le operazioni di visualizzazione quindi disegnare un rettangolo piuttosto che scrivere del testo e così via questa operazione avviene di continuo è un'operazione continua nel thread principale del browser nel momento in cui andiamo ad effettuare delle modifiche per qualsiasi motivo all'albero DOM piuttosto che allo stile che si applica ad elementi dell'albero DOM questo meccanismo di layout viene questo processo di layout viene ripetuto viene aggiornato e si aggiorna la visualizzazione corrispondente all'interno della finestra del browser quindi prima di concludere questa parte vorrei farvi vedere in pratica che cosa succede su un sito vero tramite un browser vero andiamo quindi a vedere su un browser vero quindi che so Firefox una pagina che è stata caricata in precedenza dal browser stesso vedete questa parte in alto è gestita direttamente dal processo nativo del browser quello che ci visualizza i bottoni del browser quindi che non fanno parte di una specifica pagina con il quale possiamo interagire col browser stesso piuttosto che i menu e così via di configurazione del browser stesso e nella parte inferiore c'è la pagina web così come renderizzata dal browser possiamo andare a fare come abbiamo già fatto nella lezione precedente utilizzare gli strumenti di sviluppo presenti in tutti i browser quindi non c'è bisogno di una versione specifica di browser installato tutti i browser li mettono a disposizione e andare a vedere in pratica che cosa succede all'interno del browser stesso prima abbiamo visto il contenuto html abbiamo visto che il contenuto html veniva interpretato dal browser quello che non abbiamo visto è che con questi strumenti possiamo andare a diciamo ricavare in maniera facile premendo su questo bottoncino qual è l'elemento html che corrisponde ad ogni singolo elemento che visivamente vediamo a schermo per esempio in questo caso è una casella di una tabella che contiene un div che a sua volta contiene un link che è posto intorno ad un'immagine che è quella che visualizziamo in questo punto lo stesso vale al contrario nel momento in cui spostiamo il mouse ci viene evidenziato il corrispondente elemento inoltre per ogni elemento vedete qui sulla destra gli stili che vengono applicati così come calcolati dal meccanismo che deve decidere come presentare l'elemento a schermo vedete che alcuni di questi stili tra l'altro non sono hanno sono sbarrati perché perché ci sono dei degli stili più vicini all'elemento stesso quindi in realtà di sopra in questo caso che sono sono prevalenti sullo stile specificato diciamo più a monte nell'albero dello stile nella cascata anzi degli stili inoltre ci sono informazioni di dettaglio riguardanti appunto come funziona il CSS per esempio i vari margini applicati piuttosto che il padding piuttosto che altre proprietà del layouting del processo appunto di layout del browser abbiamo già visto in precedenza ma possiamo ripassare il fatto che nel momento in cui carichiamo una pagina prima di tutto viene caricato il contenuto della pagina stessa quindi l'html grezzo che viene interpretato sulla base di questo vengono caricate altre risorse per esempio vengono caricate questa risorsa che è un foglio di stile quindi vedete il formato CSS piuttosto che un'altra risorsa che è un altro foglio di stile che vengono poi utilizzati per effettuare il layout e la visualizzazione del contenuto dell'html in questo caso vediamo che è scritto tutto su una riga perché comunque diciamo per risparmiare spazio spesso succede che diciamo chi sviluppa i siti e le applicazioni web cerchi di ridurre la quantità di dati trasferiti sulla rete e questo è possibile nel momento in cui conosciamo perfettamente le regole di parsing dei vari standard e solitamente si scrive in una maniera più leggibile poi ci sono degli appositi strumenti che eliminano tutto ciò che non è necessario strettamente per effettuare correttamente il parsing del contenuto torniamo sulla nostra slide e quindi concludiamo il discorso relativo ai browser suggerendo di andare a vedere questo libro a fumetti neanche tanto lungo fornito scritto dagli sviluppatori di google chrome che racconta in maniera anche un po' divertente quali sono i principi alla base diciamo dello sviluppo e del mantenimento di un browser complesso come può essere appunto quello di google chrome terminiamo questa lezione parlando degli sviluppi più recenti in ambito applicazioni web quindi il cosiddetto web 2.0 dove abbiamo applicazioni che consentono di interagire in maniera molto più diciamo naturale con con il web abbiamo delle interfacce utente molto più ricche dinamiche interattive e che vengono continuamente aggiornate questo è l'elemento distintivo rispetto a quanto abbiamo visto sinora perché il server e il client interagiscono tra loro continuamente diciamo chattando potremmo così dire con richieste risposte che sono trasparenti all'utilizzatore del browser stesso vediamo dal punto di vista dello schema concettuale come questo funziona rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza ci sono due frecce addizionali quindi ci sono c'è una richiesta di dati che parte non più dal client direttamente quindi diciamo da un'interazione con l'utente ma dall'esecuzione di un programma all'interno dell'ambiente di runtime del browser quindi parte sostanzialmente da javascript e va ad effettuare richieste sempre di tipo http verso il server web il quale sarà appositamente attrezzato da parte del programmatore per andare a gestire queste richieste e fornire risposte direttamente all'ambiente di esecuzione quindi che non devono essere più interpretate dal browser come un qualcosa da visualizzare quindi non devono essere più necessariamente in formato html infatti tipicamente si usa un formato diverso il cosiddetto json javascript simple object notation più leggero più comodo da utilizzare da parte di un programma runtime come javascript vedendo lo schema aggiornato dell'architettura web qui troviamo un ulteriore elemento addizionale di comunicazione tra il client e il server che quindi è la possibilità di andare da parte del linguaggio quindi del programma che viene eseguito all'interno dell'ambiente esecuzione del browser di andare ad effettuare richieste verso server web con la modalità cosiddetta ajax le quali richieste vengono inoltrate dal server web verso l'application serve che questa volta però non risponde più con un contenuto in formato html bensì con semplicemente dei dati dati il cui formato è deciso interamente dal programmatore dell'applicazione web una volta xml oggi più frequentemente json questi dati vengono restituiti come parte body della risposta http quindi come al posto del contenuto html di una transazione http diciamo così tradizionale e vanno a finire non al browser direttamente ma di nuovo al programma che ne aveva fatto richiesta e quindi avremo questi dati in formato json che verranno processati elaborati e tramite il DOM il programma che gira sul client all'interno del browser andrà a aggiornare il contenuto il contenuto della pagina che così cambia per quanto riguarda la visualizzazione senza che l'utente abbia fatto delle interazioni che a lui appaiono esplicite con il server cioè ricaricare interamente la pagina piuttosto che cambiare url e così via il diagramma temporale di queste interazioni è quello che vedete dove la parte precedente diciamo si è ristretta perché dopo che la pagina iniziale è stata caricata quindi a questo punto la pagina iniziale è stata calcolata processata sul server e diciamo restituita a chi ne ha fatto richiesta e visualizzata dal browser e tutta una serie di interazioni dell'utente con l'ambiente di esecuzione runtime lato client qui siamo ancora sul lato client producono o delle risposte dirette locali oppure delle interazioni che vanno al server web il quale a sua volta può come accade accadeva in precedenza andare a contattare anzi contatta quasi sempre l'application server il quale è spesso contatta il database server per avere informazioni e dati che vengono poi restituiti al runtime che decide come restituirli nell'interfaccia grafica all'utente stesso notato notate che queste interazioni non sono ordinate ma la risposta può essere asincrona rispetto alla richiesta nel senso che non è detto che ritornino nell'ordine in cui sono state richieste e così via quindi questa è sicuramente una difficoltà addizionale da gestire ma è ripagata dal fatto che le applicazioni che funzionano in questa maniera sono sicuramente molto più user friendly molto più interattive per quanto riguarda l'interfaccia verso l'utente delle applicazioni tradizionali che invece finora avevamo visto dovevano praticamente ricaricare sempre l'intera pagina e rifare da zero la visualizzazione per la modifica anche di un singolo piccolo elemento gli standard che sono adottati in questo caso sono ajax che abbiamo nominato in precedenza che sta per asynchronous javascript and xml in realtà l'xml come dicevamo non è più tanto utilizzato quanto invece il json esiste un api apposita dell'ambiente di esecuzione javascript nel browser che l'xml http request per effettuare queste comunicazioni tipo asincrono con il server senza coinvolgere diciamo tutto il resto del browser i dati sono trasferiti generalmente in un formato standard molto spesso è questo json di cui parleremo più diffusamente e tra l'altro visto l'utilità di questa tecnica più recentemente è stata introdotta un'api un po' migliorata per andare ad effettuare questo genere di richieste asincrone di cui parleremo abbastanza ampiamente all'interno di questo corso che è l'api cosiddetta fetch e parleremo anche del meccanismo javascript a supporto di operazione asincrone che è quello delle promises perché è molto utile ed è la direzione in cui si sta andando per quanto riguarda la programmazione javascript in applicazioni moderne per rendervi l'idea di che cosa vuol dire un'interazione di questo tipo di nuovo apriamo il browser e andiamo a interagire con un sito nel quale interagite praticamente sempre se prendiamo google abbiamo la ben nota finestra di ricerca e sapete che nel momento in cui ci mettiamo a scrivere qualcosa compaiono dei suggerimenti senza che dobbiamo ricaricare la pagina senza che sia siano effettuate operazioni particolari da parte dell'utente se non quella di scrivere all'interno della finestra stessa di ricerca vediamo sempre con il meccanismo degli strumenti di sviluppo per il browser che cosa sta succedendo in particolare apriamo il tab network quindi ricarichiamo cancelliamo tutto si non c'è già niente ricarichiamo la pagina google quindi ha caricato tutto cancelliamo quanto viene visto qui sotto così tutto ciò che facciamo viene visualizzato comodamente come nuovo elemento quindi ogni volta che premiamo un tasto quindi un bottone v e b vedete che parte una richiesta sincrona verso il server web di google app ok andiamo a vedere l'ultima richiesta l'ultima richiesta vedete che ha un parametro di ricerca dove c'è scritto web app che è quanto scritto nella finestra più tutta un'altra serie di informazioni che google ha deciso di inviarsi per motivi vari e come risposta riceviamo non preoccupiamoci dell'errore qui in questo caso qualcosa di diciamo che non ci interessa in questo momento una lista di suggerimenti quindi vedremo web app fifa vedrete questo web app fifa che è il primo suggerimento che ci viene ritornato oltre web app web app auto no comunque siamo andati alla fine mi è scappato web app auto certificazione spostamenti eccetera insomma tutto quello che ci viene suggerito in questa in questa lista sotto alla finestra di ricerca quindi con la semplice pressione del tasto di un tasto di una lettera che vogliamo aggiungere alla stringa che poi vogliamo andare effettivamente a ricercare questa viene inviata ai server di google server http che va a interrogare il loro application server il quale dà una risposta di possibili suggerimenti i quali suggerimenti vengono interpretati caricati dall'ambiente di esecuzione lato client e visualizzati direttamente qui nella finestra di al di sotto della casella di ricerca di google tutto ciò avviene in maniera estremamente rapida e veloce e direi anche efficiente da un lato per il fatto che la quantità di dati trasferita è sicuramente minore che nel caricamento intero di una nuova pagina e dall'altro grazie al fatto che comunque gli application server in questo caso di google sono particolarmente rapidi nel darci questo genere di risposte in maniera che sostanzialmente in pochi millisecondi abbiamo la risposta e il suggerimento che può quindi essere aggiornato e visualizzato immediatamente all'utente affrontiamo ora l'ultimo argomento di questa lezione che sono i pattern architetturali attualmente utilizzati quindi per realizzare applicazioni web alla luce degli elementi che abbiamo a disposizione che abbiamo visto finora sostanzialmente si sta andando verso la direzione di realizzare le cosiddette single page applications spa dove c'è un unico file html quindi un'unica risorsa html che viene caricata all'inizio quando mettiamo un nuovo url sulla barra di navigazione del nostro browser la quale carica tutta una serie di contenuto una prima bozza di html da visualizzare più tutta una serie di programmi javascript che sono in grado di interagire in maniera autonoma col server web e quindi andare a richiedere di fatto solamente i dati necessari a comporre la pagina che viene composta praticamente interamente sul lato del client per quanto riguarda gli elementi da visualizzare e così via elementi chiave da utilizzare per la comunicazione sono ovviamente il protocollo http con le sue varianti diciamo migliorate successive in termini di versione piuttosto che altri metodi di comunicazione simile a http e il formato diciamo per la trasmissione dei dati che rende facilmente interpretabili le risposte che contengono solamente dati da visualizzare da parte del server verso il client quindi non preoccupiamoci per il momento di questa sigla resta vedremo quando è necessario diciamo che le richieste http saranno dirette a certi percorsi particolari sul lato del server i quali hanno come incarico di rispondere solamente dati in formato gson e non una pagina intera in formato html come invece avevamo visto fino a poco fa quindi siamo sostanzialmente passati nel corso della storia dal 1990 o giù di lì in cui le applicazioni diciamo venivano rese dinamiche tramite un ampio uso di codice e di logica applicativa sul lato del server e quindi sul lato del client ogni volta che era necessario fare una modifica era necessario farla tramite il caricamento di nuovo della pagina per intero ad una situazione un po' più recente diciamo 15 anni fa circa quando per esempio google è stata tra i primi ad utilizzare questa modalità in cui oltre il caricamento iniziale della pagina con logica che appunto funziona sul lato del server è possibile fare delle modifiche locali alla pagina sulla base di informazioni che ci provengono dal server e che non sono diciamo informazioni che sono costituite da nuovi contenuti HTML in formato HTML ma informazioni che contengono solamente i dati in qualche formato standard XML piuttosto che JSON piuttosto che altri formati che vengono interpretati localmente dall'ambiente di esecuzione JavaScript e che vengono richiesti in maniera asincrona ricordatevi Ajax Asta per asincrona rispetto all'eventuale interazione dell'utente col browser e che quindi ci consentono di aggiornare l'aspetto della pagina indipendentemente da quello che sta succedendo infine ci stiamo muovendo verso una situazione quella di cui dicevamo prima dove l'applicazione web gira quasi interamente sul client nel senso che la costruzione dell'interfaccia web la reazione agli eventi e così via è effettuata interamente sul client e quello che viene richiesto al server sono solamente i dati quindi in questo caso qui diciamo i dati in formato JSON in qualsiasi altro formato che sia possibile interpretare dall'ambiente di esecuzione lato client sul quale come è successo sul server verranno inseriti appositi framework per facilitare lo sviluppo dell'applicazione stessa questo ha anche il vantaggio di riuscire a diciamo scrivere una logica applicativa sul lato del server che possa servire diversi tipi di client quindi in questo esempio vediamo che sulla sinistra abbiamo l'applicazione web tradizionale che funziona su un browser web che gira su un normale calcolatore diciamo modesto portatile un'applicazione web ottimizzata per un'interfaccia di tipo mobile quindi un browser che gira su un dispositivo di tipo mobile piuttosto che applicazioni di tipo nativo per vari dispositivi mobili iOS Android e così via tutte si basano su un'interazione HTTP che di fatto è l'unica ben e ampiamente supportata nelle reti moderne per quanto riguarda il trasferimento dei dati con una logica applicativa sul lato del server che però non restituisce più informazioni codificate in HTML ma solamente i dati ed è compito diciamo dello strato applicativo a parte una fase iniziale di caricamento di una prima pagina nel caso dell'applicazione web di creare l'interfaccia web e tutto il resto dell'applicazione se voi andate a vedere per esempio cosa succede sull'applicazione web Twitter per esempio vi viene restituita una pagina vuota inizialmente tutto il contenuto viene inserito tramite codice che gira l'atum client nell'ambiente di esecuzione del browser quindi via JavaScript popolandolo con dei dati richiesti in questa maniera al server che quindi agisce solamente più come server dati che fornisce risposte in formato HTTP ma non contenenti codice HTML concludendo diamo un'occhiata a che cosa succede nel diciamo nell'ambito mondiale per quanto riguarda i siti più popolari quindi che cosa fanno le grandi aziende che hanno milioni e miliardi di accessi di visitatori unici al mese per esempio Google Facebook YouTube e così via ecco lato frontend sul client tutti usano JavaScript perché non c'è alternativa questa è l'unica possibilità si può solamente usare JavaScript lato client perché è l'unico linguaggio veramente supportato da tutti i browser e questo è anche il motivo per cui ovviamente lo studiamo in questo corso di applicazioni web sul lato del server come avete visto da questa lezione le cose sono più complicate e quindi ci sono tante funzionalità che possono essere supportate più o meno bene da diversi ambienti ambienti di sviluppo lato server piuttosto che diversi linguaggi e così via nell'azienda più grande molto spesso c'è anche un misto di queste tecnologie e di questi linguaggi a seconda dell'azienda a seconda del fatto che il linguaggio o l'ambiente sia più o meno supportato addirittura direttamente sviluppato dall'azienda stessa e così via sul lato del database quasi tutti usano database di tipo relazionale quindi con schemi predefiniti da parte dello sviluppatore di tabelle e di con uno schema deciso in fase di sviluppo qualcuno inizia ad utilizzare schemi e sistemi basati su database non relazionali come Bigtable piuttosto che Hbase Cassandra e così via che sono i più popolari oppure database in memory come Redis e così via quindi questa è la situazione e da questa situazione noi dobbiamo pensare che ci concentreremo principalmente su questo lato front-end sviluppare la parte front-end dell'applicazione web quindi che funziona con la logica di cui dicevamo prima e faremo il minimo indispensabile per riuscire ad avere un application server in cui abbiamo la possibilità di accedere a dei dati che ci vengono forniti da un server un server composto dal server web più un minimo di logica di application server che ci consentono di fatto di fare delle prove con le applicazioni web che andremo a sviluppare abbiamo scelto di utilizzare javascript anche sul lato del server per semplicità di programmazione visto che impariamo un nuovo linguaggio così da non doverne imparare un secondo e complicare il lato server diciamo in maniera eccessiva questa lezione termina qui ci sono ovviamente riferimenti per approfondire alcuni aspetti un po' più specifici per esempio il protocollo HTTP2 che sta cominciando a diffondersi come avete visto anche negli esempi grandi aziende usano spesso questa seconda versione del protocollo HTTP perché è più efficiente più veloce con meno latenza e così via piuttosto che risorse per approfondire come funzionano i browser che sono ovviamente oggigiorno uno degli programmi software più complicati per tutto quello che devono fare come avete visto per far girare un'applicazione web moderna quindi terminiamo qui e ci vedremo nelle prossime video lezioni dove continueremo a parlare di JavaScript in maniera da acquisire una buona capacità di utilizzo del linguaggio stesso e cominciare a fare i primi esperimenti a breve con delle semplici applicazioni web grazie dell'attenzione e alla prossima lezione